Appuntamento alla Casa Dritta con Maurizio Parodi, un dirigente scolastico di un istituto di Genova intervenuto ad Arezzo e lui l'ideatore, il portavoce di una campagna Basta Compiti, rivolta soprattutto per quanto riguarda l'istruzione delle scuole elementari. La petizione Basta Compiti nasce ed ha già raccolto 20.000 firme sulla base anche di quelle che sono le recenti ricerche che sono state condotte nell'ambito dell'educazione, soprattutto prendendo spunto da alcuni esempi europei come quello della Finlandia. Ci sono molti insegnanti, ciascuno dai propri compiti come se fossero gli unici da svolgere, nemmeno si parlano tra loro. Dopodiché a casa ci sono bambini di 6, 7, 8, 9 anni che sono costretti a un impegno di 4, 5, 6 ore al giorno. Considera che addirittura si danno i compiti nelle scuole a tempo pieno, in moltissime scuole a tempo pieno, dopo 8 ore di immobilità forzata, bambini dai 6 agli 11 anni sono costretti a svolgere compiti a casa, tutti i giorni e persino nel weekend. È un accanimento che resenta la crudeltà mentale, considerati poi anche gli esiti documentati dalle più recenti ricerche dell'Ocse. Noi abbiamo un tasso di analfabetismo funzionale che è scandaloso, abbiamo un tasso di dispersione di mortalità scolastica che davvero è inquietante. Quanto è difficile cambiare anche forse la mentalità degli insegnanti in questo senso? Si tratta di inveterate abitudini che si basano su convincimenti pre-razionali. La logica scolastica è questa, si insegna a scuola e si impara a casa, e si impara a imparare a casa. L'acquisizione del metodo di studio è una competenza strategica dal punto di vista cognitivo ma anche sociale, perché la riconversione dei repertori cognitivi è importante anche per adeguarsi a un mercato del lavoro sempre più flessibile e precario. Bene, quindi il compito più importante della scuola, che è quello di dotare i ragazzi della capacità di gestire la risorsa apprendimento, viene delegato allo studente o alla famiglia se la famiglia c'è, se è in grado di sostenerlo, questo impegno. Ci sono genitori costretti in questo modo a sostituirsi agli insegnanti, cioè genitori che si ritrovano a fare gli insegnanti di complemento senza necessariamente avere le competenze professionali per farlo, oppure i genitori non ci sono proprio. Quindi gli studenti si ritrovano soli nel momento in cui avrebbero maggior bisogno dell'insegnante. Riuscire a ragionare su questo tema con gli insegnanti non è semplice, non è affatto semplice, perché si tratta di ripensare profondamente delle logiche di un apparato che è quasi granitico, inattingibile, però si deve fare.